Michele Lerici, Artsana Group. In questa epoca di trasformazione digitale crescente il modello operativo della funzione finance sta cambiando rapidamente. Come in Artsana state affrontando questo cambiamento e in che modo Oracle vi supporta in questo processo? Stiamo affrontando questo cambiamento cambiando le persone, cambiando la mentalità delle persone. Stiamo cercando di inserire più giovani, giovani più dinamici, persone che abbiano più confidenza con quello che è l'analisi del dato e il piacere dell'analisi del dato e del supporto dell'informazione. Lavoriamo per i nativi digitali e dobbiamo cominciare a basare sui nativi digitali, cosa che noi magari non abbiamo. Oracle su questo ci supporta con degli strumenti che cercano di darci come una volta si dava la carta e la penna, adesso abbiamo bisogno di quello che ci permette di organizzare il dato che è molto importante ed è veramente un teme quantitativi molto rilevante e quindi abbastanza difficile da riuscire ad analizzare.